In questo tiepido inizio di autunno il solito guida toglie le castagne dal fuoco al vasto Girardi firmando l'1-1 nel confronto interno con il Matese e riscattando l'errore dal dischetto. Nei padroni di casa, Mr. Prosperi lascia inizialmente in panchina Ruggeri per scelta tecnica con il Matese che al quarto si fa vedere con Eluazni che calcia però troppo centrale. Al sedicesimo la replica giallo-blu con Acunzo che si produce in un ottimo spunto ma la sua conclusione va al lato di un soffio. Al ventitresimo il Matese trova il vantaggio, corner dalla destra di Lancellotti che pesca ricamato nell'area piccola, stacco vincente e 1-0 bianco-verde. Al trentottesimo guida prova a liberarsi in aria, Fabiano è costretto a fermarlo con le cattive per parmiere di Brindisi e calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso Guido, conclusione angolata e paratonati dal giudice per l'ultima emozione del primo tempo. Nella ripresa il Matese attende basso il Vasto Girardi e cerca di colpire in ripartenza. Al trenticesimo lancio in aria per Eluazni, Carriero cerca di fermarlo in uscita in maniera scoordinata e per Palmiero è ancora calcio di rigore. Dagli 11 metri va lo stesso Eluazni ma calcia alle stelle. Scampato il pericolo il Vasto Girardi torna a spingere con Guida che da una delle sue mattonelle preferite prova il tiro a giro che esce di nulla. Al diciottesimo ci prova Salatino che trova lo spazio per il tiro ma del giudice ha idee diverse. Un minuto dopo Hakmetai tenta la botta dai 16 metri ma del giudice dice ancora di no. Al ventesesimo Guida si mette in proprio, si sistema il pallone sul sinistro e disegna una parabola bella e vincente per l'1-1 giallo-blu. Il Matese prova subito a rispondere ma la conclusione di Ricamato è disinnescata da Carriero. Al ventinovesimo i giallo-blu si distendono in attacco con Guida che cerca Salatino il quale non inquadra però la porta. Nel finale il Vasto Girardi avrebbe anche la chance per il sorpasso. Botta di Acunzo, respinta corta di del giudice ma Guida non riesce a ribadire in rete. Alla fine un punto per parte e tanti rimpianti soprattutto in casa Vasto Girardi che pur con una prova generosa produce molto fumo e poco arrosto rimantando l'opportunità con il successo. Mentre per il Matese il punto è il classico granello di sale che contrariamente al detto non sciupa affatto la minestra.